Ciao Ciao ragazze e bentornate sul canale Un altro spacchettamento Per quanto riguarda appunto le collaborazioni Amazon Anche oggi ho una piccola piramide Infatti Cercherò di sbrigarmi Ero un po' indecisa se Fare due video O farle tutti insieme Ma siccome sono arrivati tutti questa mattina Ho pensato di farli adesso Perché domani ne ho altri Magari Domani sono di meno E quindi Magari ho pensato così Vabbè niente Parlo parlo Poi non arrivo mai Al nocciolo della questione Comunque cerco di darmi una mossa A pacchettino Allora vi ricordo Che c'è il mio Sempre un giveaway aperto Sul canale E il premio in action camera Con un set di pennelli Avete ancora tanto tempo Perché Non c'è una fine Quindi andate a vederlo Oh che carino Sì Lo aspettavo bianco e nero Però vabbè è arrivato rosa È un mouse Vediamo se lo posso aprire Se non mi squarcio le mani Ah ok Sì Sia con Il filetto E anche questo Wireless Nel senso Mettendo questo nel pc Lo potete far funzionare Anche senza il filo Che carino Ah però è molto carino È rosa Piccolo panda Ok Ahia Scusate Allora Mi sa che perdo più tempo Di mettere a posto Le cose Ad aprirle Se siete interessate Lo dico sempre Così almeno Questo è un video apposta Interessate a qualche prodotto In particolare Me lo dite Che vi faccio la recensione E anche per i venditori Io non li metto Perché Non so se questi venditori Ci sono su Amazon Italia Però voi chiedetemelo Che io non ho problemi Se c'è Vi metterò direttamente Il link Altro pacchettino A strappo Ah Questo quasi quasi Tutto si è fatto Che è sto roba Oddio quanto pesa Molte Dov'è E anche questo Questo Sapete che non lo so Che cos'è Il Fold holder Ok Sì Questo qui Vi faccio vedere Il fold holder È quel Per attaccare il telefono Eccolo Bianco Con appunto Le placchette Oh mamma mia Sì praticamente Questi vanno attaccati Dietro Dietro al telefono Bisognerebbe Staccare Facciamo una prova Al volo Vabbè Tanto giusto per Ok Si stacca Si attacca Ovviamente va messo anche sotto E dovrebbe funzionare così Ah si è forte però Ah si gira pure Che figo Non so se vedete La pallina qua Vabbè Senti E ora come si stacca Sto fregno Non si stacca Ragazzi Madonna Vabbè Ve lo vedo dopo Ok Rimettiamo tutto dentro Ah Stava staccando Questo È carino Perché viene messo In un Vabbè Del Di velluto Ultimo A strappo Paco a strappo Yeah Wow Oh Oh Pim Bumba Guardate un po' Che c'è qui Voilà Un Spazzolino Elettrico Sonic Power Aspettate Vediamo se riesco Ad aprirlo Sì Sto facendo veloce Perché vorrei Far durare i miei video Trent'anni Però ragazzi È fatto veramente bene Sapete Ecco L'unica cosa che non mi piace Ah È sigillato Volevo aprirla È la testina È la testina Dello spazzolino Cioè È fatto tipo Cioè Per esempio Dei bambini Che so È piccolina Non so se la vedete Riuscite a vederla Cioè Secondo me è piccola Vedete È piccolina Vabbè Comunque È Elettronico Sembra bello Oh Ci sono anche Ricami Tre Si è fatto proprio bene Il suo Dove si viene riposto Per la ricarica La spina E quindi è un set Che è un po' completo Bene Che dire Non vedo l'ora di Lavarmi i denti Con questo Cosa Ecco La cosa che mi piace È che Ha tre testine Di ricambio Quindi in tutto Sono D'altro Scusate Il casino Ok C'è un po' qui Prendiamo questo po' qui Oh Mamma mia Vediamo un po' cosa c'è Vabbè Faccio la carta Ah questa È un'altra scatola Bene Iniziamo con i pacchi Nei pacchi Perfetto Allora Questo dovrebbe essere Se non sbaglio La Il contenitore Il port Che è sta roba? Oh Scusate La batteria Scarica Ok Riaccomi Ah sì sì Contenitori Uh Quelle forchette Vabbè Aspettate Vi tiro fuori questo Allora Sono dei contenitori Per cibo Vedete? Ah ecco Non c'è la foto Vabbè Dei contenitori Dove ci va Del cibo Per il pranzo La merenda Per come vi pare Insomma E Questo qui L'ho preso Con la piattaforma Amazon Art Dove tutti potete Partecipare E in più Ci sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette di potate Quindi Porchetta Coltello Il cucchiaio E un tovaglino Carino Non è male Scusate Casino Allora Lo lascio qui Nella sua scatola E E poi Lo guardo Con calma Ultimo Pacco Aspettavo Che L'ho preso Sulla pagina Facebook Amazon UK Ovviamente Ma ce ne sono Anche tante Italiane C'era la La venditrice Se non sbaglio Dovrebbe essere Questa Ma non ne sono Sicura Aveva pubblicato Delle foto Di alcuni Prodotti Dove tu Dovevi mandare Il messaggio Privato Se eri interessato A recensire Quell'articolo E io Aspettate Oddio Scusate Ragazzi Ecco Un altro Pacco Nel pacco Questo È un pacco Certo Però Porca vacca E E Avevo scelto Il portagioie E Spero che sia Questo Anche se Mi sembra Troppo grande No Dove Dove si Apre Qua Eh sì È lui Mamma mia Ma è enorme Oddio ragazzi Delle foto Sembravano Sembrava Sembrava Più piccolo Questa è la cassaforte Non è un portagioie Vabbè Però Cioè È qualcosa Di stupendo Aia Ho il bigliettino Watchbox Sì Invece Orologi Per conservare Orologi Gioielli Anelli Tutto insomma Quello che riguarda Il Mamma mia Ragazzi Bellissimo È fatto Tipo in similpelle È ricoperto Tutto Sotto È Dellutato Quindi ha La stoffa Delluto Ed è tutto Damascato Con questi Piccoli Rondi Non so Se vedete La trama Bello Con alternanza Bello Questo è un vetro Qua ci sono Dei cassetti Che si tira D'acqua Wow Bellissimo Dentro È tutto Ricoperto In tessuto Di velluto Tipo alcantara E ha Quattro Scompartimenti Mentre La parte Sopra Mamma mia Ragazzi È bellissimo È bellissimo Se riesco A farvelo Vedere È bellissimo Si ha aperto Pure il cassetto Vai Vai Via col vento È stupendo Questi sono Quelli per Appoggiarvi I bracciali O comunque Gli orologi Possono essere Inseriti Cioè messi O così O per così Tutti Per inserire Gli anelli Due Ne abbiamo Qua al centro Ragazzi Questo è bellissimo Questo è Bellissimo Cioè io non so se Io non me ne intendo Di portagioie Perché I miei portagioie Di solito Erano Piccolini O me li creavo Io con qualcosa Questo è Stuperdo Questo Veramente Stuperdo Poi è bello Grazie Non me lo aspettavo Così grande Lo sa Come dire È bello 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 Lo metto Dentro Questa Dove Poi Far Qui Sono Pazzesce E Volevo Trovare Il Pugliettino Lo metto Dentro Ma Io sono Abbasteccio Vabbè Comunque Li metto Nella Sua Scatola Se ci riesco E Pellano Niente ragazzi Questo è stato Il mio Spacchettamento Ovviamente Lasciate un like Se il video È piaciuto Andate a vedere Il giveaway I premi Anche se ormai Lo dico sempre A inizio video Per riportarlo Nulla Vi lascio Un bacio Un abbraccio Fate le brave Lasciate un like E al prossimo video Spacchettamento Ciao ragazzi Ciao ragazzi